che cosa io non avrei mai visto la nonna porto dai ma non facciamo ridere i pol scusate queste cose fra l'altro io sono scrittore e anche ricercatore di libri diciamo dei sueti antichi naif downtown qui ha dei baffetti non ce l'ha però pezzetta da d'artagnano john beppe scusate poco di un corso esperto di libri rare viene ingaggiato il famoso bibliofilo boris balkan c'era anche un'attrice queste balkan c'è anche la balkan gli viene chiesto di scovare gli ultimi due esemplari di un rarissimo manuale di invocazione satanica stampata nel 600 confrontale con l'altra copia di cui è in possesso balkan e giudicarne l'autenticità comincia così un percorso fatto di tentazioni incontri turbolenti violenze e morti misteriose un'indagine confini dell'occulto firmata da roman bolaschk dai questo è un ottimo piatto donne con le farfalline nello stomaco che vedete questo john depp un intellettual man verrà a parte dai è un uomo caliente come questo scrittore ma adesso the suspense the suspense cosa c'è scritto intelligente era un bel figo john depp l'hanno rovinato deturpato dopo che è stato con amber art adesso non gli danno più da lavorare i miei moschettieri tratta dalle figaro le figaro ma naturalmente scusate altrimenti che critica sarei critica della minchia come non sapete niente medici ma noi di fighe qua c'è emanuele signer perché comunque dovete sapere che c'è stato l'incidio di cielo drive c'era una volta a hollywood rom polanski sharon tate sharon stone che secondo me è ancora meglio la sua età rispetto a margot robbie e comunque si è consolata bene roman mi piaceva un'attrice francese roman bollinger non era quella di notti selvagge questo scrittore meglio di carlo lugarelli e ancora lì quella selvaggia lugarelli darei da mangiare soltanto ecco pasta e piselli che sai quella esperta di pisseloni e e e e e e e e